Per il futuro dei territori piemontesi è stato il tema del convegno organizzato dall'Associazione Consiglieri a Palazzo Lascaris. Durante l'incontro si sono svolte dieci mini-sessioni dedicate alle borgate e ai villaggi alpini, alle aree interne e all'innovazione sociale. Il perché di questo convegno? Noi intendiamo riflettere sui problemi dell'attuale situazione generale del nostro paese ma è della regione. Riteniamo che partire dalle problematiche concrete del nostro territorio, delle varie realtà provinciali e locali, delle varie zone, possano derivare degli stimoli al rilancio di un'attività economica per un rilancio più generale della nostra regione nella società italiana. Il rilancio del Piemonte parte anche attraverso la rivalutazione dei suoi territori? Anche, io direi soprattutto attraverso la valorizzazione di quello che contengono i territori, perché in questa fase storica che sta rivoluzionando il modello di sviluppo e non abbiamo ancora visto le conseguenze, i territori giocheranno un ruolo vi è più importante a tutti i livelli, però è importante che i territori sviluppino delle potenzialità diverse uno dall'altro.